Grazie Presidente. Allora guardi, io voglio aggiungere solo poche parole all'intervento molto chiaro che ha fatto il Direttore Generale. La settimana scorsa l'azienda ha incontrato le organizzazioni sindacali e ha detto che a fronte di certe azioni da parte di Roma Capitale avrebbero pagato gli stipendi... Chiedo al pubblico di fare silenzio, grazie. Vabbè non è un problema, io non ho problemi, perché l'azienda ha dichiarato che a fronte di certe azioni da parte di Roma Capitale tutta la responsabilità, il pagamento degli stipendi ricadeva sull'azienda. Ora abbiamo saputo da il Direttore Generale che certe azioni, tutte le azioni che Roma Capitale ha concordato con molti servizi sono state eseguite. Anche la pubblicazione sul MEF delle fatture, l'ho appena detto il Direttore Generale, che era una delle condizioni che metteva molti servizi per il pagamento degli stipendi. Per cui noi abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere il problema, appena abbiamo saputo. Dunque ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto da questa amministrazione. Grazie